Il mese di settembre rappresenta i cambiamenti e i nuovi inizi, raccontati per l'appunto nell'ultimo film proposto da Cinema Italia UK presso i Riverside Studios. I temi presenti nel film settembre vanno dai problemi matrimoniali alla scoperta e riscoperta della propria sessualità, per non parlare di prostituzione, immigrazione e malattie. Temi importanti e pesanti, raccontati però con una delicatezza tale che riesce anche a strapparti un sorriso. Sala piena e grande apprezzamento da parte del pubblico presente. Il prossimo appuntamento con Cinema Italia UK è per sabato 4 e domenica 5 marzo con la rassegna Donne di Mafia, organizzata presso il Garden Cinema. Quando si separano i uomini diventano miserabili. Io ho scoperto che Marco c'ha uno. Lui è amico di mio nonno. Sì sì è brutto però sono tutti così. Chi è questo signore? Il mio dottore. Tu torni alle tre di notte con il tuo dottore. Cosa fa? Anch'io ti ho tradito. Che hai detto? Non ho capito. È grave? No. Sì. No. Mi avete fatto con casino. Io mi sa che sono innamorata. Mi sono ricordata com'è quando uno è proprio felice. Quando non vuoi più spiegare nemmeno un minuto. Ti ho innamorata pazza. Sì? Sì. 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 Vedrà che qualcosa le verrà in mente su che farci con questo gran casino.